Domani è un altro spareggio, un'altra partita importantissima, non voglio attaccare il solito disco ma dobbiamo passare attraverso la prestazione per cercare a tutti i costi di portare a casa al massimo. Richiedo veramente l'aiuto di tutti e soprattutto credo che veramente siamo in forza e difficoltà nelle scelte e nelle risorse, i ragazzi stanno dando veramente il 200% e dobbiamo superare questo periodo, è un periodo difficile. Quelli che ci sono sono a posto, sono preparati, sono pronti ma siamo in pochi comunque. Giovanni Castiglioni, Marese Sport, gli attaccanti autori di 9 delle 19 reti Bianco Blu sono andati a segno solo in due delle ultime 11 partite, al di là delle assenze che hanno chiaramente inciso in questo dato, quanto considera strategica la posizione di Pesenti per invertire questa tendenza? Gli attaccanti che abbiamo a disposizione a me piacciono molto, sia come caratteristiche che come qualità umane. E' il reparto che è stato più martoriato, da inizio anno abbiamo avuto un'assenza, una percentuale di assenza degli attaccanti tra Covid e altre infortuni. Mi viene in mente Castelli che l'ha passato di tutto e dallo Zicomo ha un Covid con ricaduta. Ci mancano perché la qualità di squadra degli ultimi due mesi ci deve far portare a casa più punti. Abbiamo segnato con 9-10 giocatori differenti, cerchiamo di compensare, gli attaccanti devono migliorare, devono crescere. Pesenti deve migliorare, deve crescere, ma nella nostra squadra è veramente il noi che deve arrivare alla salvezza. Però passa anche attraverso qualche gol sporco, qualche episodio sui quali gli attaccanti dovranno incidere.